si ritorna in una situazione più casalinga ma lo sai che tra l'altro non è diretta naturalmente l'argomento è confermato che mi dici no scusa oggi parliamo della peta e di far cry 6 vabbè se vuoi parlare di far cry 6 io sono tutto orecchi oh no terapeuta e non sai che devi si senta l'opo c'è il corbattino gli animali, i galli o sai i guai via palate di cacca sopra un disco oggi è uscita una notizia che ho detto che la devo dire che non si trova come i vecchi ora non parlarmi di vecchio che oggi è stata una giornata tremenda però fortunatamente grazie tu stamattina non sei venuta a chat audio no? in verità sono venuto ho fatto la comparsata ma non funzionava e quindi praticamente non sono riuscito a dire quindi c'ero ma di c'ero ok però nel momento in cui io ho parcheggiato ho spento la live audio ho messo un piede giù dalla macchina ho sentito crac alla schiena e sono qua che sono sotto antidolorifici perché veramente tutto il giorno avevo le colleghe che erano piegati due da ridere a vedermi muovere come un cazzo di ottantenne ancora un po' è carponavo praticamente segnatevi carponavo guarda che faccio partire qua cioè faccio partire ah perché ci sentono ma non ci vedono esatto hai mai provato a fare non dirmi qualche stronzata di yoga allungamenti no 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 ti dico guarda ti faccio questo esempio io nuotavo regolarmente prima della cioè ero anche abbastanza fit nuotavo regolarmente prima di questo covid poi in ufficio sai che noi avevamo anche la palestra e i corsi mi dicono vieni a fare come cazzo si chiama quello che fanno pilates no no che pilates quello duro quello che fanno anche crossfit crossfit mi fanno vieni e poi c'è uno ancora più più duro che non mi ricordo mi fanno vieni vieni qua prova una lezione tu ci credi che non riuscivo a sedermi sul cesso non sono riuscito a sedermi sul cesso stavo parlando del cesso per una settimana allora ti mico perché sennò non capisci mi attaccavo al muro e facevo tipo così capito come me oggi come me oggi in ufficio ed ero fit ed ero fit questa te la racconto correva qualche anno fa e praticamente cosa è successo che all'aere che è venuta la voglia di seguire un corso di kickboxing però essendo abbastanza timida cosa ha detto faccio la prima lezione guardo come va ma per poter fare la prima lezione ho bisogno della spalla quindi quale spalla migliore se non il marito non mi ricordo se eravamo già sposati credo di sì bene andiamo a fare la prima lezione io dopo un quarto d'ora al costo di rischiare di prendere una randellata di botte dal maestro ho detto basta porco lui perché non puoi figa uccidere delle persone alla prima alla prima lezione è ovvio che così scremi quelli che non sono seriamente portati a seguire questo corso però figa cioè non sai chi hai di fronte non sai che predisposizione abbia uno uno sconosciuto alla all'attività fisica magari ero uno che non ha mai fatto un cazzo per 35 anni e poi tutto tutto in un colpo cioè figa una roba guarda corsa salti e robe così ma vaffanculo va io mi sono messo per terra a boccheggiare di fronte anche a dei ragazzini di 15 16 anni 20 anni no veramente una cosa ma penso che sia proprio differenti muscoli che attivi poi ci saranno tipo gli sportivi qua nella chat che diranno siete degli uccori però per esempio io col nuoto ne uso un bel po' di muscoli e beh nuoto e sci sono i due sport più completi sì poi c'è chi dice di no c'è chi dice di sì è la classica infinite loop come dicono nella programmazione di di mega discussioni che non puoi mai finire però ti dico cioè in verità sono muscoli diversi e quindi è tutta questione di esercizio e sono d'accordo con te infatti io avevo chiesto ai miei colleghi che avevano iniziato anche loro questa cavolo di cosa hanno detto ma scusate ma è normale cioè io non mi riesco più a sedere sul cesso parliamone nel senso parliamone è normale e loro mi dicono ma sì dai per le prime due settimane di dolore poi dalla terza cominci cominci ad andare a regime io mi sono immaginato e io per due settimane ogni volta che devo scusate fare la cacca devo soffrire come un cane per non cagare in piedi praticamente ma sì no no assolutamente ma qualsiasi cioè proprio alzare braccio qualsiasi cosa sono morrò fame e comunque ero avevo comunque tre anni di meno ero fit a differenza di adesso che ho ripreso a nuoto però non sono assolutamente a livelli che che avevo raggiunto all'epoca e ho la morte morte pura oggi l'angolo del fitness esatto ma insomma così tra l'altro tolto l'argomento fitness vediamo ecco mi sono dimenticato una cosa vediamo di la guizza ti sei dimenticato no l'hai usata prima cosa la guizza ce l'hai l'ho vista sì 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 certo però mi sono dimenticato di prendere la guizza dal garage mettermela in macchina in previsione di portarla domani in ufficio vabbè lo fai domani no? non è grave eh ma è meglio se me la preparo la sera perché sennò dopo mi dimentico vabbè infatti mi sono dimenticato comunque sai che cosa ti potrebbe aiutare? beh la domotica ma stai che dici ok eh beh ma la domotica è siri in buona sostanza che me l'ha ricordato ma io non ho letto il cellulare ah google te l'avrebbe ricordato con io che ti facevo una chiamata esatto bravo va bene fra dai parliamo di videogiochi dai va bene dai non ti ti giuro che non ti faccio alzare quindi quindi siamo siamo seduti come il gamer medio va bene allora oggi di che cosa parliamo aspetta che leggo ecco già già l'argomento non è quello le previsioni più o meno disattese ma sì ma io ho messo tanto un titolo a caso praticamente cazzo mi trolli cioè allora dillo che lo fai apposta no no dai vabbè quello che che dovevamo discutere era proprio quando una serie raggiunge il punto di saturazione e quando dire basta una serie ok perché ci sono il parere di alcuni gamer e scusa stavo leggendo fra sei preparato oggi per la live della domanda no tranquilli e poi invece ci sono i dati magari quelli finanziari che vogliono dire un'altra cosa infatti ti ho linkato un articolo non so se hai avuto modo di leggerlo tra l'altro linkava un altro giornale questo è la bellezza di ign cioè praticamente ti fa un articolo che link ad altri articoli praticamente anche lì è una matriosca una matriosca di link esatto e quindi volevo discutere un po per un po con te e direi di iniziare se sei d'accordo naturalmente a jackal citare le serie e io ho già nei sappiamo già le serie che ti hanno un po dici basta basta nonostante magari anche il gameplay ti piaccia perché poi arriviamo ad un altro punto che mi piacerebbe discutere con te il gameplay comunque ti piace però basta parto ovviamente dalla più scontata che è assassin's creed pensavo gears pensavo che iniziasse con gears no 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 la più scontata e più eclatante probabilmente più eclatante puoi proprio andare subito lì eh sì dopo possiamo anche riprendere appunto l'articolo però la più eclatante dal mio punto di vista è proprio gears è proprio assassin's creed perché è una serie di giochi che mi piacciono il cui gameplay mi piace non mi ha stufato da quando poi sono diventati non più a cadenza annuale aumentava considerevolmente la mia voglia di di giocarli acquistarli al day one ma purtroppo col fatto che siano diventati la quintessenza dell'open world in maniera assolutamente assolutamente stupida e assolutamente sbagliata secondo me quantità su qualità secondo me hanno sempre puntato a ti faccio le mappe enormi quantità di roba da fare tutta uguale per esempio dove tu sei spinto davvero a andare nei vari meandri della mappa diciamo che sì però quantità qualità parliamone perché qualità anche no la quantità però come dicono gli inglesi quantity over quality ok però la quantità a me sta bene cioè stava bene ripetere anche delle azioni non particolarmente divertenti ma comunque con un certo limite quantitativo ok nel momento in cui si è aperto il tutto in maniera inverosimile quasi con origins e ancora di più con odisi e ancora di più con valhalla che non ho giocato basta siamo proprio arrivati al punto di dire basta non posso più investire tempo tantissimo tempo in un videogioco che obiettivamente oggettivamente mi continua a riproporre la stessa cosa in un quantitativo di volte all'interno dello stesso gioco assolutamente intollerabile ho capito ti faccio due domande quindi il cambiamento nel gameplay di Assassin's Creed non ti aveva dato fastidio no anzi perché comunque eravamo arrivati già ad una eh sequenza di giochi ok molto simili tra loro che continuavano a ripetersi e tutto quanto quindi ero anche positivo rispetto alle introduzioni nuove di Origins io le ho anche apprezzate già cominciavo un attimo a anche il sistema di livelli scusa per ascoltare sì era comunque una sorta di novità apportata ad un brand che comunque aveva bisogno di essere il termine è sbagliato svecchiato perché non è che me l'hai reso più originale hai semplicemente aggiunto delle caratteristiche tipiche di altri generi videoludici all'interno di Assassin's Creed mi sta bene quello che funzionava secondo me negli altri brand di Ubisoft l'abbiamo già parlato più volte le hanno buttate dentro esatto quindi mi sta bene che tu inserisca queste caratteristiche ma non che tu mi continui a espandere la mappa di gioco facendomi fare sempre le stesse cose moltiplicate per 20.000 segnalini ti faccio una domanda allora numerosi Assassin's Creed la seconda questa è la seconda che ti volevo fare in tema numerosi Assassin's Creed hanno un po' una volta se tu ci ti ricordi bene prima Assassin's Creed avevi delle secondarie poi avevi delle primarie volendo tu potevi percorrere tutte le primarie finire la storia principale del gioco e infischiartene di tutte le secondarie il che aveva anche comportato delle polemiche di alcuni utenti che dicevano è troppo corto il gioco troppo corto che poi magari erano 20 ore cioè ora è corto questo soggettivo sono stati prodromi proprio di questa mentalità del cazzo di lamentarsi per la durata e quindi io ti faccio questa domanda ma se loro domani decidessero siccome numerose missioni secondarie tra cui quelle per esempio in Valhalla per sbloccare degli alleati non sto spoilerando nulla da subito sono di fatto obbligatorie ok e alcune cose quello che ti chiedo è se domani Ubisoft dicesse guarda va bene noi mettiamo lo stesso la mappa la riempiamo di lo so che qui combatte contro la tua voglia di platinare di togliere tutti i fleghettini dalla mappa mettiamo mille missioni come piacciono a noi tutte uguali tutte infinite che puoi morire tranquillamente e non aver concluso però volendo puoi fare la storia principale percorrere tutta la storia dei burloni e andare avanti questa cosa a te porterebbe dei vantaggi o dici tanto non mi cambia nulla perché sono in fissa con i puntini sulla mappa con i giochi Ubisoft si con i giochi Ubisoft e erano anche lì delle operazioni delle missioni secondarie principali anche abbastanza amalgamate che si ripetevano ma comunque con un numero di volte accettabile e infatti ho completato il gioco al 100% nel giro di 40 ore sì quello sono cazzo però quando un gioco comincia a essere sulle 150 per ma poi perché io perché io non capisco il perché quale sia il fine se non quello di mettere il cazzo sul bancone e dire ho fatto un gioco così ampio adesso arriviamo il perché è nell'articolo che ti ho mandato aspetta io sono curioso di vedere da se Ubisoft Connect si apre le statistiche di Far Cry non si sono aggiornate grazie Ubisoft ai tuoi server minacolosi però adesso mi piacerebbe vedere invece io sono un tipo da storia primaria a differenza tua già solo dirmi guarda puoi completare la storia primaria a me non me ne frega niente se mi lascio dietro i puntini cioè io vado mi piace vivere la storia e non avere troppi certo poi se se ci sono dei giochi che sono capaci di coinvolgerti aggiungerti del del valore se tu porti avanti valore a livello di storia intendo se tu porti avanti le secondarie sono il primo a dire vabbè le faccio mi viene in mente tu sai cosa della Nintendo allora io ti dico aspetta no questo è Origins vediamo dov'è Valhalla io ho fatto la storia primaria vediamo visualizza le statistiche tempo di gioco 66 ore su che gioco scusa? Valhalla ok e l'hai terminato? terminato l'unica cosa che ho aggiunto perché mi hanno obbligato è a sbloccare il livello segreto facendo delle missioni di praticamente arrampicata che è orrendo era ricordava un vecchio Assassin's Creed una roba orrenda che l'ho fatto solo perché alla fine volevo vedere anche l'altro finale devo ammettere quindi ci potresti togliere magari un sei ore di quella di quella cacca non so come altro definirla e arrivare a 60 ore cioè tu immagina te 60 ore per la storia primaria tu che vuoi fare tutto è infinito ti vanno almeno il doppio almeno il doppio non so come però qual è il motivo io ti ho linkato l'articolo e che adesso vado a riprendere il motivo è che in verità il pubblico vuole questa cosa qui cioè Ubisoft continua a farlo perché il pubblico vuole questa cosa qui ora se fossi se tu leggi l'articolo aspetta che lo sto andando a recuperare che Assassin's Creed Valhalla successo clamoroso è il secondo videogioco più redditizio nella storia di Ubisoft ora che poi però attenzione alla parola redditizio perché cosa vuol dire redditizio su orizzonte temporale stavo per aggiungere cioè nei primi mesi di loro se tu vai a leggere parlano di vendite redditizio per come sono io ex finance ti direi allora gli è costato poco e quindi la marginalità no quello che intendevo dire io è il redditizio si basa esclusivamente sulle vendite della copia del gioco o anche su tutte le microtransazioni conseguenti anche transazioni ho letto perché c'era infatti però come fai però loro ti dicevano che avevano ridotto le microtransazioni cioè in uno dei vari articoli che è nella matrioska dicevano despite forse quello in inglese Ubisoft ha dichiarato di aver ridotto le microtransazioni quindi loro riducevano le microtransazioni nonostante questo è in quell'arco temporale ricordiamo l'arco temporale vengono registrati sull'arco temporale quindi dicono primi sei mesi primi non so x mesi c'era anche scritto è stato uno dei il secondo purtroppo io non ho trovato il primo ero curioso eh infatti stavo per chiedere qual era il primo cazzo ho cercato tutti gli articoli non c'è scritto dovrei andare nella sai che il mio passato oscuro da sit potrei andare nelle relazioni delle finanziarie e me lo cerco da solo perché c'è scritto da relazione agli investitori però voglio dire cioè comunque ciò non toglie che loro hanno preso sto cacchio di gioco e ci hanno fatto una marea di soldi e la cosa che mi stupisce è che se tu ci pensi quest'anno Ubisoft ha praticamente fatto uscire un gioco in mezzo AAA ovviamente locale Far Cry e poi c'era scritto sempre nello stesso report che hanno avuto una flessione di revenues dell'1% che per un anno dove tu fai uscire pochissima roba è eclata cioè io ci sono rimasto e ho detto boh cioè è proprio sono proprio dei scemi cioè i primi e non incutermi paura fra ma no dai Brian Trash il quindi quello che fa specie è che tu ti lamenti eppure il pubblico vuole questa cosa qui è il problema è che io non sono il pubblico cioè io non sono il target dei giochi Ubisoft però la domanda che ti faccio è è un modello sostenibile perché è vero che quest'anno non hanno avuto nessun gioco in apertura di grosso rispetto all'anno scorso che comunque hanno avuto più titoli è un modello sostenibile cioè è un modello che siamo sicuri che o la gente dopo un po' si spacca le palle perché abbiamo già visto di allora io mi auguro che questa moda del dover giocare 120 ore per completare un gioco passi alla svelta non credo se sarà così soprattutto sul breve termine io quello che però già diverse volte mi domando a parte il discorso del quanti effettivamente acquistano un gioco e poi lo portano a termine che già dà dei risultati potrebbe essere una un argomento di live perché io ti ricordo ti ricordo che tutti si lavano la bocca con Red Dead Redemption 2 prendendo i trofei del cacchio del PS Store solo il 33% di chi ha avviato il gioco l'ha portato a termine quindi vale dire Red Dead Redemption 2 però è un gioco troppo particolare non lo prenderei come esempio ma io che sono statistico ti dico anche però la maggior parte non ha neanche portato a termine il secondo atto appunto ribadisco è talmente strano come gioco con delle tempistiche che si prende liberamente che secondo me non so se la maggior parte ma buona parte di chi l'ha acquistato si è trovato spiazzato e ha detto ma che cazzo ha comprato quindi cioè non prenderei Red Dead Redemption come punto di paragone con altri con altri titoli però Marco è anche eclatante che questi qua non siano andati praticamente neanche dopo le 10 ore 15 ore ok allora ti di ok no no vabbè però hai ragione si potrebbe analizzare più 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 brand vedere con i mezzi che abbiamo a disposizione perché purtroppo non abbiamo accesso ai dati ufficiali tra virgolette ci tocca andare a a guardare i trofei perché la verità è quella ecco Fabio Samurai dice se non hai internet la Play non ti segna i trofei quindi di conseguenza anche queste statistiche sono relative a coloro che hanno la console connessa si però mi piacerebbe sapere qual è la percentuale di coloro che hanno una console senza sono le persone senza internet cioè senza neanche cioè mi fa un po' strano sapendo benissimo che poi la maggior parte dei giochi ti arriva che ha bisogno della patch iniziale per funzionare quindi boh cioè non è più come un tempo tipo PlayStation 1 o PlayStation 2 dove tu inserivi il disco e non avevi problemi di andare avanti comunque tornando alla domanda di prima che dicevamo è sostenibile la cosa io mi domando appunto è cioè cioè se io mi vedo non come il target dei di chi produce i videogiochi oggi perché il target comunque sono persone decisamente videogiocatori decisamente più giovani di me se io comunque mi rivedo me stesso a vent'anni diciamo facciamo un'età media non mi ci vedrei comunque a a comprare tot giochi all'anno e a portarli avanti per decine 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 di ore forse perché il mio background parte da eh videogiocatore da titoli mordi e fuggi no però se anche oggi per mordi e fuggi ricordiamo sempre una media di 15-20 ore mordi e fuggi se ci pensi beh cazzo io ho cominciato con i giochi che ti duravano mezz'ora un'ora va bene però c'erano anche di quei giochi che magari però io quando avevo vent'anni avevo giochi che duravano molto ma molto ma molto bene meno e il mio piacere nell'essere videogiocatore era appunto prendere un gioco terminarlo passare all'altro e giocarne decine e decine nel corso di un anno no? oggi mi domando ma nel momento in cui un ragazzo si compra il gioco fiero facendosi le seghe del fatto di aver speso 80 euro 70 euro quello che è per un gioco che gli durerà 150 ore ma tu somma queste ore vuol dire che teoricamente uno va a comprare meno titoli nel corso di un anno e ubisoft è contenta di questa cosa? secondo me sì perché stanno andando un modello ad abbonamento quello è un altro discorso per fare un modello ad abbonamento cioè al game service praticamente tu ragioni a console giustamente no? però mettiti in conto che stanno sviluppando sempre più giochi infiniti tipo alla Destiny pensa a Ghost Recon ti può piacere o ti può non piacere a me non piace la direzione che hanno dato al brand però è anche vero che solo giochi con gli amici ci può anche stare è personale, è un'opinione personale quella del brand quindi c'è rispetto a chi piace tantissimo perché? perché gratta gratta stanno cercando di spingere questo modello di abbonamento e più ti tengono attaccati ai giochi e ti obbligano a stare attaccati ai giochi più tu paghi e rimani incollato al loro abbonamento secondo me può essere anche quello poi deve essere un mix di loro strategie Marco io non so come la pensi tu la tendenza a Ubisoft è cerchiamo di coprire ogni segmento di mercato perché Destiny quando è uscito ha avuto un discreto successo si sono osservate le potenzialità del releasing e del pagamento di più contenuti nel tempo ha tenuto un sacco di player incollati e Ubisoft che cosa ha fatto? ha cagato fuori the division ora che poi sia riuscita o meno nell'intento di rompere le scatole seppure in un altro diciamo con un'altra sfaccettatura quel tipo di giochi questo magari ne potremmo discutere ad ora però la tendenza è come gigante Ubisoft cosa fa? ho visto che la tal società ha lanciato un gioco lo lancio anch'io e cerco di tenere l'utente infatti se tu vai nelle note per gli investitori quelli che guardano danno i soldi a Ubisoft per oversemplificare il sistema finanziario loro si bagliano parecchio la bocca sul numero di player che stanno sui loro asset uno perché avere tanti utenti significa che un domani puoi fare uno raccogli un sacco di dati due puoi anche fare delle azioni dove magari che ne sai si apre l'advertisement in game tu un domani potresti aprirlo ok avere 15 milioni di persone sopra la piattaforma che ti giocano e due per altre tematiche di microtransaction e quindi ci sono gli analisti che si andranno a fare i loro calcoli del loro Steam però ha capito guarda che galluzzo sei scritto si si dopo faccio un riassunto finale ok quindi secondo me sono varie strategie concatenate però quella di tenere i player il più possibile e di coprire più mercati possibile e scusa anche coprire più mercati non vuol dire solo accedere a quella a quella fan base di quel mercato lì vuol dire anche avere più alternative magari giocatori che non fanno non passano dall'una all'altra e quindi magari il tenere quel giocatore il più a lungo possibile su quel gioco è perché sanno che magari quella IP copre quel mercato poi tu ragioni naturalmente da uno che comunque ha certe facoltà non è che ti sto dicendo che sei Rockefeller però da adulto sicuramente compri più giochi magari rispetto a quelli che ti potevi permettere con la paghetta almeno per me è così naturalmente sì però adesso me ne compro meno per altri motivi per altri motivi giusto giusto però ci sono anche quelle fasce d'età di tipo fede che sono più giovani di noi non hanno figli e in teoria hanno uno stipendio per potersi comprare più giochi e non avere rotture di palle e poterli giocare ci sarei passato anche tu per quella fase felice naturalmente è la mia fase dai 21 ai 35 anni praticamente a me è venuta un po' dopo perché dovevo finire all'università e quindi non avevo ancora reddito però proprio per il fatto che hai maggiore potere economico mi verrebbe normale pensare di aver molta più voglia di acquistare più giochi non di infognarmi sullo stesso e andare avanti per sei mesi a giocare all'Assassin's Creed nuovo quello che dovrebbe essere una sottospecie di piattaforma anche quello nonostante Ubisoft abbia già detto che non sarà un gioco free to play con microtransazioni ma sarà comunque un gioco che tu vai a pagare al lancio come è sempre stato e poi si baserà su contenuti via via rilasciati a pagamento però francamente io non riesco a trovare una grandissima differenza tra un gioco qualsiasi di due generazioni fa che veniva portato avanti non dico per un anno ma per sei mesi a colpi di DLC rispetto ad un Destiny per dire che è andato avanti sì ok per un anno con dei contenuti che sono stati venduti a pagamento cioè l'unica differenza è che questo portava avanti qualcosa che già si basava sull'online tra l'altro un utente fa giustamente notare avete parlato della mail che ha mandato Ubisoft ai giocatori con la rossa zacca per favore veramente mi è venuto uno scompenso i giocatori che avevano smesso di giocare a Far Cry 6 sì adesso ci arriviamo ci arriviamo perché per esempio una allora io sono stato un fan sono un fan di Far Cry mi sembra di capire che anche a te piaccia con riserve con riserve con alti e bassi diciamo ha avuto i suoi alti e bassi ci stava arrivando ricordiamoci che io non gli ho ancora perdonato del tutto Primal poi magari a te è piaciuto è saltato completamente nessuno se lo ricorda più ci sarà un motivo cioè quando tu gli dici te lo ricordi Far Cry Primal e tu ti ah no aspetta è vero l'avevo giocato cioè quindi per dirti quanto è stato nel cuore hanno preso la mappa del 4 e lo hanno ambientato nella preistoria se si può chiamare preistoria ecco io per esempio l'ultimo Far Cry è lì che ti ho proposto l'argomento di questa live che palle cioè da una parte vuoi magari rigiocare quel tipo di gameplay e qui poi ti faccio dimmi tu che cosa ne pensi perché il gameplay comunque al di là delle innovazioni che a me non sono piaciute che hanno portato negli ultimi Far Cry New Dawn New Dawn è un capitolo a parte che secondo me è orrendo e hanno tolto alcune delle innovazioni che avevano inserito però a volte tu dici guarda ho voglia di rigiocare un gioco tipo Far Cry che ti dà la libertà di farlo in stealth di farlo alla cacciarona di usare alcuni mezzi di cambiare le armi quindi da una parte ero spinto a dire cavoli però almeno gioco questo tipo di gameplay dall'altra dicevo ma nicchia non faccio spoiler tranquilli storia non ispirata a mio modo di vedere molto distaccato e quindi dicevo però se devo su un motore grafico secondo me di passata generazione cioè sembrava proprio un titolo che immaginavo la scena all'interno di Ubisoft che arrivava lì il CEO che se conoscete tutti perché alle tre era sempre lì e dice guys we have a new game sai che poi è fuori lì con la R we have a new game for the market e tutti dico oh cazzo ci siamo dimenticati di fare un videogioco minchia due minuti lo implementano su un motore grafico che sembra di due generazioni fa con una storia che tipo sembra come dico sempre da cucciolone e dicono vabbè ci mettiamo il gameplay solito e ricicliamo la mappa e poi mettiamo il combattimento tra i galli per dare questa ventata di aria fresca cioè lì mi sono veramente sentito che stanchezza nonostante io abbia sempre amato il tipo di gameplay negli alti nei bassi naturalmente con le grandi innovazioni Ubisoft però lì mi sono ho fatto fatica ho fatto cioè sai quando lo dici poi magari lo giocherai tu e lo troverai fantastico però ho fatto veramente fatica a portarlo a termine cioè ci sono stati dei momenti in cui hai detto sì però dai cioè ma perché è un fatto perché 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 farlo così e qui ti domando basta il gameplay seriamente? dipende non puoi dare una risposta oggettivamente globale perché prendiamo Far Cry alti e bassi alti e bassi i miei alti e bassi derivano dal fatto che alcune implementazioni allora partiamo dal presupposto dal presupposto che il mio feeling con Far Cry è partito col 2 un feeling totalmente negativo al punto di avermi fatto mollare il gioco dopo poco passato invece estremamente positivo con il 3 che è stato il mio primo Far Cry che ho portato a termine e che mi è piaciuto molto da lì ancora di più Blood Dragon ti lancio quella naturalmente naturalmente da lì fotocopie su fotocopie no? gli alti e bassi da lì in poi riguardavano principalmente due cose le novità a portate di capitolo in capitolo alcune gradite altre meno e non tanto la storia quanto i protagonisti della storia i villain di turno alcuni secondo me più azzeccati altri meno altri esageratamente dimmi se ti trovi esageratamente caratterizzati per cercare di ripercorrere il successo che ne so di Vaas del 3 naturalmente cioè il 4 per me è stato il peggiore da questo punto di vista che mi è piaciuto perché ha inserito l'elicottero che mi ha dato una mano nel velocizzare gli spostamenti ma al tempo stesso ha avuto un nemico assolutamente anonimo rispetto a quello del precedente che comunque sia per quanto tuttora si vedano dei cosplayer a Luca di Vaas non è che figa l'abbia mai reputato questo personaggio dalla caratura così alta da dover diventare un emblema della storia dei videogiochi ecco detto ciò è comunque una serie che ripeto con alti e bassi porto avanti piacevolmente anche perché un Far Cry esce ogni 3-4 anni quindi passano talmente tanti anni nel frattempo che mi torna la voglia di giocare un Far Cry ok quindi mi piacerebbe conti di giocarlo prossimamente il 6 sì non è un gioco per cui ho voluto spendere 60 70 80 euro quello che è al lancio per il semplice motivo che se non avessi visto trailer e gameplay non mi ricordo se alle 3 o in quale o in quale situazione in cui ho visto un crafting degli oggetti all'inverosimile non che mi avrebbe sicuramente fatto perdere ulteriormente dal gran tempo per una azione che nei videogiochi mi ha sempre fatto cagare cioè proprio il mettere assieme ma anche i giochi che mi sono piaciuti come in The Last of Us per dire probabilmente l'avrei comprato al day one ecco è un gioco per cui investirei volentieri 30 euro in modo tale che se poi mi dovessi rompere i coglioni non è ma il discorso che ho fatto io ho fatto l'abbonamento sai che con l'abbonamento puoi accedere Stadia e giochi è vero però puoi farlo anche su Stadia Marco mi chiamo Marco però però siamo pure diviso da pizza vulcano che teneri ho ancora la foto che teneroni che siamo però il mio problema è che Stadia non ce l'ho connesso al televisore wow cazzo ho tre slot liberi nella 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 cosa lì naturalmente ora che mi ci fai pensare però io ho gli slot liberi sulla tele eh vai lì perché io ho tutto inserito nel allora Ubisoft plus più Stadia naturalmente te lo fanno pagare 3 euro di più però però ci può stare diciamo che con 17 euro ti porti a casa in un mese secondo me ce la fai in un mese te lo giochi ci può stare poi disattivi naturalmente palletta di fumo per Ubisoft sparisci e vai i giochi Ubi sono da 30 mi piace questa mi piace queste frasi che sembrano tipo ips ed ips it i giochi Ubi tipo il papa i giochi Ubi sono da 30 euro per me tutti tutti non ci sono non c'è un bra di dubbio tipo così grandissimo che l'ha scritto a lupo e invece altre serie che ti hanno un po' rotto le scatole altre serie che secondo te o dovrebbero ah poi un'altra domanda di queste serie che ti hanno rotto le palle diresti facciamo un reboot o dici vabbè quel che è stato è stato io ti faccio un esempio Halo bravo lo stavo per dire io nonostante se fosse uno degli ultimi argomenti delle live ecco Halo è un'altra serie che Halo io ti dico sono molto combattuto perché tu l'hai giocato l'ultimo il 5 l'ho mollato perché ho detto basta ah ok no c'è un diciamo un finisce tipo puntata delle serie tv quindi ti lascia quindi chiudi con cliffhanger esatto bravissimo si vede che ne sai no e quindi io sono rimasto lì e dico quindi quindi ho una voglia di capire dal punto di vista della storia che poi potrei anche vivere senza però mi è rimasta lì però dall'altra è un tipo di gameplay che mi ha veramente mi ha scassato le palle cioè con tutto rispetto per Halo ha fatto la storia mai getterai merda su Halo però un po' mi ha mi ha rotto le scatole e quindi ti faccio questa domanda altre serie che ti hanno rotto le balle e dici un reboot potrebbe rifartela amare no allora perché nel momento in cui io sono fan di una serie perché naturalmente dovremmo cioè partiamo giustamente dal presupposto che uno ama una serie ma che poi ti rompe le palle no giusto si quindi abbiamo parlato di Assassin's Creed abbiamo vagamente citato Gears of War che è un'altra che metterei dentro questa questo calderone Halo passando in zona Sony potrei citarti un Uncharted che ho sempre apprezzato ma che il 4 finisce in una maniera tutto sommato coerente e per cui non credo sia necessario doverlo far proseguire con un altro protagonista o doverlo rebutare cioè facciamo una distinzione è però i Naughty Dogs secondo me hanno fatto bene anche io sono d'accordo ha capito che ha tratto il massimo da quel brand e ha detto cioè quando era ancora secondo me piuttosto che fare altri Uncharted 7, 8, 9, 10, 14 ha detto va bene siamo arrivati qui studiamo cose nuove esatto e io ho apprezzato perché è un bel rischio dal punto di vista aziendale per Sony è un bel rischio perché è un rischio è un rischio perché vai a fare un po' un salto in buio è un caso unico concordi che non è che è un caso unico ma non è unico per Naughty Dog perché già in passato non è un caso unico fatte 10 società di sviluppo videogiochi secondo me sono è lei poi adesso ci saranno altri esempi ma non andiamo oltre il 10% di società che hanno le palle di dire vabbè questa IP abbiamo tratto il massimo valore basta finiamola così finiamo con come dici tu col 4 che finisce in una maniera che tipo va bene finito a posto a posto così andiamo su su altre cose hanno fatto la cosa carina dello spin off dell'eredità perduta esatto che però rimane lì immagino che non faranno eredità perduta 6, 7, 8 però hanno avuto il buon gusto di fare così il problema qui è tipo Ubisoft che se ci fosse stata lei a comandare Naughty Dog si gli avrebbe detto oh oh guarda che Uncharted vende ora non so quanto venda però per dire beh è una delle IP di maggior successo no no però non so quanto venda in scala rispetto ad Assassin's Creed però se per loro per il loro standard è un titolo che vende poi bisogna vedere come le valutano se è un titolo che vende tipo Ubisoft sarebbe andata lì da Naughty Dog e gli avrebbe detto ok allora facciamo un remaster quella l'ha fatta l'ha fatta anche Sony perché naturalmente è un quick win però dice però mi raccomando dopo il 4 il 5 il 6 il 7 se vanno giù le vendite riproviamo con una formula leggermente diversa ma sotto Uncharted oppure leggermente cambiamo totalmente ma teniamo Uncharted come P come brand perché se tu ci pensi a C il gameplay è cambiato di parecchio poi ripeto han tenuto il nome però potevano secondo me anche chiamarlo in un nuovo modo no cioè se tu ci pensi rispetto ai vecchi Assassin's Creed la storia fuori dal dal simulatore adesso dall'Animus dall'Animus in alcuni di questi reboot è stata minima se non praticamente inesistente il collegamento agli altri quindi dicevi Uncharted ok ma stavo differenziando le due cose cioè Uncharted di Uncharted non giocherei un altro titolo perché lo considero bello che è finito finito positivamente basta invece ed è una saga che ho amato saghe che ho amato in passato come appunto Assassin's Creed Gears of War magari un po' meno halo siamo arrivati al punto in cui mi sono proprio rotto il cazzo è proprio stato un matrimonio è finito male abbiamo divorziato praticamente no e quindi non non mi aspetto e non vorrei un reboot perché saremmo comunque di fronte anche perché come cazzo puoi rebootare un Gears of War Allora io a differenza tua non è che mi sono trovato male con gli ultimi Gears perché anch'io ero fan della serie e piuttosto di giocarlo con tutti anche lì gli alti e bassi cioè certe innovazioni potevano anche se vogliamo lasciarlo da parte mi rendo conto che alcune cose stanno un po' invecchiando e secondo me non sono riuscito a svecchiare non l'hanno svecchiata anche lì stiamo parlando di giochi la cui uscita è talmente cadenzata nel tempo protratta nel tempo che uno potrebbe dire sì nel corso degli anni di attesa mi torna la voglia di giocare a Gears of War ed è alla fine della fiera quello che mi ha spinto a comprare il Judgment il 4 il 5 no il 5 non l'ho comprato l'ho giocato sul Game Pass però cioè obiettivamente io sto ancora giocando lo stesso gioco di El 2005 2006 quando cazzo è uscito il primo sì la storia è leggermente cambiata la storia sarà leggermente cambiata però ti sei affezionato ai personaggi della primaria diciamocelo anche che giocare Gears of War per la storia o come dire prestando un'attenzione particolare alla storia quantomeno non è da me non non seguo Gears of War non ho amato Gears of War per la storia ecco sì beh questo è vero e anche questi hanno avuto i loro tentativi di reboot per te sono andati male anche Halo confermi hai voglia stesso discorso stesso discorso hanno lanciato la grafica a livello esponenziale in Halo rispetto agli Halo precedenti naturalmente però non hanno cambiato di una virgola Halo probabilmente nel corso del tempo mi ha rotto le palle un po' perché mi hanno rotto le palle gli FPS sono stanco del genere sono stanco di di Halo ecco Gears of War invece perché non solo mi ha rotto le palle Gears of War ma proprio perché sono state prese dalle delle scelte che secondo me hanno rovinato quel poco di buono che era rimasto in Gears of War ecco altre serie? altre serie ci sto pensando per dire quello non posso nemmeno dire di essermi rotto il cazzo dopo un amore sconsiderato perché l'amore sconsiderato per Little Big Planet per dire è durato il tempo del primo perché mi è piaciuto tantissimo giocarci forse per il fatto che si trattava di un gioco semplice nelle meccaniche ma che in più mi aggiungeva quella componente cooperativa online che non avevo mai addizionato ad un platform ok? quindi per quello mi risultava particolarmente innovativo senza contare tutta quella parte di creazione che io non ho toccato nemmeno con un bastone ma che sarebbe da stupidi non non considerare no? ai fini del giudizio finale del gioco però già col secondo mi hanno aggiunto il rampino ok va bene mettimi il rampino però ancora lo stesso gioco e dopo col terzo non il terzo non l'ho mai comprato me lo sono trovato sul plus ma non l'ho mai giocato e cosa c'è? c'è un capitolo per il playstation 5 non mi ricordo più forse si ti stai confondendo con questo ah sackboy giusto ma non è little big planet è un platform sai dove avevo giocato little big planet sulla console migliore di sempre playstation vita ce l'ho lì comprato forse anche al lancio mai giocato io non so neanche più se funziona la mia vita cioè non l'accendo da talmente tanto che ho quel dubbio del tipo lo stesso dubbio che ho per la playstation 1 che c'è la mia madre in qualche cassetto residuato e quando l'accendo sento pruzza di bruciato dall'ammontare di polvere che è finita sul processore dico cioè vabbè funzionerà non funzionerà non lo so e scusa quello lo giocherai l'hai già giocato o no è il prossimo titolo che c'è in canna dopo metroid hai comprato o te l'hanno dato me l'ha comprato roberto e me l'ha dato quando ci siamo beccati l'altra sera ah si eh si questo è amore roberto questo è amore non lo sapevo certo io sono andato a ritirare un gioco che lui ha comprato al comet di cremona e lui e lui mi ha comprato quel gioco lì perché era un'offerta di un media world lì vicino a milano merda milano merda bravo sei veramente sei veramente il male cacchio prossima volta sputo nella pizza vulcana no dai scherzo scherzo altri giochi strano che tu non mi abbia ancora fatto una domanda ben specifica abbiamo parlato di Gears Halo abbiamo parlato di Uncharted LittleBigPlanet ma cosa manca sul piatto della bilancia dai aspetta aspetta perché io non ho messo cosa Nintendo ah Nintendo eh vabbè Nintendo secondo me non esistono saghe Nintendo che mi hanno rotto il cazzo a me no perché tengo a ripetere ad essere chiarissimo su questa cosa io sono un amante sfegatato di Nintendo ma non di tutte le saghe Nintendo sia chiaro quindi ci sono delle saghe che amo alla follia Zelda e Mario in primis e saghe che non posso dire di essermi rotto il cazzo molto semplicemente semplicemente perché o non le ho giocate o magari le ho giocate un po' a sprazzi tipo Metroid che sto giocando in questi giorni era dei tempi di Prime che non giocavo quindi e comunque non non sono mai stato così grandissimo fan di Metroid per dire che hanno giocato talmente tanti che mi hanno rotto il cazzo ecco l'unico se vogliamo brand Nintendo che anni fa posso dire di averne avuto fino sopra i capelli è stato Mario in versione 2D perché ne sono usciti talmente tanti nel giro di relativamente pochi anni che sono arrivato alcuni anche secondo me di qualità inferiore rispetto allo standard Nintendo che sono arrivato al punto di dire ok Marco adesso se anche ne dovessero uscire stop sai che ti stavo appunto dicendo e tu mi hai parzialmente risposto che però Nintendo è un caso a parte uno secondo me hanno un controllo qualità sui giochi che è superiore rispetto ad altre case cioè nel senso sfornano di quelle chicche che gli altri cioè ma il livello delle chicche medio è sempre più alto rispetto al livello delle chicche di altre case sviluppo e poi dicevo e poi non fanno uscire tipo 356 cioè non è il Assassin's Creed che quando tu aspetti passano due anni tra uno e l'altro potrebbe essere anche quello dipende da come tu consideri se tu consideri Zelda Zelda allora non dico uno ogni anno o uno ogni due anni però se incominzi a considerare comunque Zelda il filone 3D e il filone 2D ma lo stesso discorso lo potresti fare tranquillamente anche con Mario ripeto non siamo nell'ordine della cadenza annuale o biannuale ma poco ci manca specialmente nei tempi di facciamo due calcoli prendi quelli 3D eh eh prendi dettamene che perché secondo me guarda che Ocarina Maggiora Merda Wind Waker passiamo al al Wii con anzi a cavallo quindi Twilight Princess Skyward Sword eh Wii U giampato fino all'uscita di Breath of the Wild esatto quindi 6 giusto confermi 6 non averne saltato neanche uno in 3D no aspetta che cazzo dico quelli per portatile mettiamoci anche Phantom Hourglass e Spirit Tracks ok aspetta 7 Ocarina è uscito Ocarina è del eh du novant novantotto 8 vabbè c'è un po' più di tempo Marco sono 20 cioè no sono 23 anni 7 sì 8 in 22 anni eh però se dopo tu ci metti anche quel cioè dividi il portatile e il fisso dividi il 3D e il 2D sì ripeto non arriviamo a dire cadenza annuale no 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 chiaro però cioè guarda che secondo me cioè non lo so guarda anche Breath of the Wild quanto sarebbe stato facile ragionando in canoni Ubisoft cagarti fuori subito secondo capito perché secondo me una volta che c'è il team sviluppo che c'è il motore grafico che hai già definito quello stile di gioco quanto ci vuole per un team anche medio cagare fuori un gioco di quelle simile cioè invece secondo me ci investono parecchio no cioè è difficile trovare lo Zelda vabbè tu potresti dire subito qualcuno però merdoso no che dici ma minchia come l'hanno sviluppato che palle cioè tutto così no non sei d'accordo cioè secondo me sono molto più attenti a queste cose poi magari hanno tanti brand di cui alcuni come dici tu non è che ti cioè diventare Kirby ti ha mai preso chi? Kirby qualcuno eh quello è un esempio a me l'ultimo ha quasi spaccato le palle e l'ho dato dentro per per un'altra cosa al GameStop però per dirti ci sono dei brand un pochino più sottotono però tendenzialmente il livello secondo me è maggiore perché ci investono più tempo perché sono molto attenti e particolari cioè non la vedo così come anche perché se sputtano i loro brand non è che ne hanno cioè non ne hanno non è così facile per loro creare nuovi brand se ci pensi quali sono i nuovi brand di di Nintendo gli ultimi credo dipende cosa intendi per brand perché IP IP figa sono tante perché magari rivoluzionano IP IP sono tante perché anche solo negli ultimi 5-6 anni metti ci Splatoon metti ci ARMS però ARMS secondo me è un titolo è una nuova IP ma non diventerà mai un brand non credo aver mai prodotto un ARMS 2 Splatoon Splatoon siamo già al terzo è uscito il terzo non ancora ma sta per uscire mi ero perso diciamo che ne sono usciti due e mezzo poi che cazzo mi sto dimenticando ma guarda che ne sono usciti veramente tanti nell'epoca nell'epoca Switch titoli che però magari sono non ho seguito ecco ahia Cristo morto un giorno ti chiuderanno questo canale per trovare eccesso di boccoli no no vabbè altre case simil Ubisoft che ti vengono in mente che stanno veramente veramente tirando per lungo alcune IP beh tu hai fatto qualche esempio allora secondo me Bioshock per esempio io sentivo la mancanza di un Bioshock te lo dico brutale così come sento la mancanza di un Bioshock temo l'uscita di un Bioshock sono bipolare ma temi l'uscita di un Bioshock per gli annunci che hanno già fatto riguardo il suo essere open world il mio il mio timore è che uno non c'è Kevin Levine come cavolo si chiama Levine Levine non so come si si dica che comunque aveva secondo me ha tenuto alto il livello cioè era uno che secondo me ne capì cioè ci teneva al brand non ho capito quanto se c'è se non c'è del tutto forse l'hanno anche detto però mi sembra di no e due perché dopo così tanto tempo un nuovo team o una nuova direzione prende questi brand è molto facile fare un open world qualsiasi era brutto lì ma con un Bioshock in copertina in modo tale da vendere esatto che così loro ti vendono prendono i nostalgici come me non so come te certamente da day one nel mio caso perché io ho amato i Bioshock quindi se dovesse uscire sarei in fila davanti al negozio Kevin Levi Strauss dice non so se è proprio un giovane comico esatto e quindi cioè capito quello è un esempio di ho molto timore ed è chiaro che secondo me è passato tanto tempo e vogliono cercare di monetizzare maggiormente e invece due saghe di cui tu sei Deus Ex te la butto lì Deus Ex è molto più particolare non è no su Deus Ex non posso scucirmi perché i primi per pc non li ho giocati ho giocato e amato Human Revolution Mankind Divided mi sono rotto il cazzo dopo tre ore di gioco e l'ho mollato perché c'era la tematica no no lì avevo cominciato in un periodo in cui non dovevo giocare a quel gioco mi sono rotto il cazzo che ero ancora dove era a Praga all'inizio mi sembra esatto Praga perché eri stato a Praga e ti eri rotto le palle sono stato a Praga ma ero troppo bambino non mi ricordo tanto di Praga se non due aneddoti il primo che quando sono andato in un cimitero ebraico mi sono trovato di fronte alla tomba di Anna Sinkulova e ho riso per tantissimo tempo quindi potete immaginare che e poi mio papà che eravamo andati tipo in in una cripta sotto al duomo forse alla cattedrale e mio papà è venuto il cagotto e diceva io devo scappare perché se no cago in una tomba e quindi vabbè niente esatto a parte questo ti volevo chiedere due brand di cui tu sei sicuramente molto più esperto di me Silent Hill e Resident Evil allora Resident Evil mi sono anche lui gli alti e bassi l'ultimo no cioè te l'ho ripetuto già una volta certo quando io so che tu sei più action su questo punto perché non sei un grande fan però quando Resident Evil ripeto questa è la massima quando Resident Evil non sanno alla Capcom non sanno che cazzo fare vanno action e nove volte su dieci dal mio punto di vista quindi di vecchio fan che ama molto più la componente survival fanno solo un macello quindi mentre ero contento per il set per il reboot perché dicevo se continuano a fare questo lavoro ci sta e fanno un buon lavoro di reboot anche se siamo sempre lì perché chiamarlo ancora Resident Evil lo chiamano in un altro modo cioè io non lo so sono anche un po' capisco le ragioni di marketing però a volte apprezzerei un pochino più di coraggio e mi sono rotto le balle Silent Hill io sono in astinenza e quindi se dovesse uscire un Silent Hill decente penso che comprerei il The One subito senza pormi salvo poi pentirmene perché poi però Silent Hill è tanto che non ne gioco mi piaceva tanto a me e capisco che a te non sia piaciuto quindi magari quello che dico però mi piaceva tanto e a me anche l'ultimo non era dispiaciuto Downpour che era non so se per in che anni sono usciti quelli mobile che tipo Book of Memories che faceva appena quindi non so dirti se quello è stato tecnicamente l'ultimo però ecco l'ultimo su console che era Downpour a me non era dispiaciuto per dirti so che alcuni dei fan qua di Silent Hill si daranno fuoco perché diranno ma cosa cosa stai dicendo Downpour ma assolutamente no per me invece era un assolutamente sì e cos'era 2014 2013 non mi ricordo sono passati tanti anni e siccome non ci sono tanti generi così a me piacerebbe però mi rendo conto che se io fossi da parte del marketing di Konami no no non andrebbe bene un gioco così oggigiorno ce lo comprerai solo io e qualche qualche personaggio come me perché ai giovani d'oggi non sa da non è lo stile di gameplay bisognerebbe svecchiarlo e allora lì ritorniamo al solito punto come fai a svecchiarlo lo svecchi male o bene cioè se lo svecchi bene tipo Resident Evil 7 che per me non si deve chiamare Resident Evil ma questo è un altro discorso va bene però poi scivolare diciamo disattendere le attese dei vecchi fan per andare incontro ai nuovi è molto facile cioè io non so come la vedi ma è facilissimo facilissimo proprio creare malcontento e poi anche anche se tu riuscissi a creare il gioco perfetto per continuare siamo esseri umani fatto 100 ci saranno sicuramente 30 che gettano merda indipendentemente dal livello del gioco e altre vabbè quello lo difendo questo vabbè condizioni ecco prima quando abbiamo citato Deus Ex c'è qualcuno che diceva eh ma a me ha rotto il cazzo perché è in prima persona ma non è affatto per quel motivo lì e Stealth in prima persona che citerei in questa in questa puntata parlerei di Dishonored altro titolo di cui ho amato tantissimo il primo gioco e il secondo non sono riuscito a portarlo avanti perché non sei riuscito a portarlo avanti perché mi sono rotti i coglioni cioè il problema è che capitano dei giochi molto simili ai predecessori specialmente quando si tratta di un 2 dopo un 1 in cui le meccaniche appunto riprendono quasi in toto quelle del primo capitolo e mi domando perché in certi giochi fotocopia ma come un Assassin's Creed sono andato avanti per anni a giocare a sti giochi quando un Dishonored mi ha rotto il cazzo arrivato al secondo al secondo episodio nonostante il primo io l'abbia adorato e sono domande a cui non riesco non è guarda questa domanda secondo me è la domanda del secolo perché secondo me se conoscessero la risposta a questa domanda sicuramente Dishonored avrebbe otto capitoli però il così lasciamo le parti oggettive che su quello non posso dire nulla perché non abbiamo dati sarebbero tipo illazioni a caso segnatevi illazioni ma il quello che dico te può essere anche il momento in cui le giochi l'orizzonte temporale che separa un capitolo dall'altro perché io mi rendo conto che effettivamente questo fa la differenza cioè giochi che mi sono piaciuti però dici però ecco non mi sento di doverle giocare per almeno due o tre anni nel mio caso poi non so nel tuo certo esistono prendi appunto il Far Cry di cui parlavamo prima eh cioè ci sono secondo me per me sarebbe così un Assassin's Creed ora io non ho abbandonato ancora il brand come hai fatto tu però dopo aver giocato un Valhalla in cui in alcune parti io ho fatto veramente fatica ecco il classico titolo che ti dico se uscisse fra cinque anni non viverei bene viverei bene viverei bene perché almeno mi ritornerebbe la voglia di giocarlo e mi possono affogare in quelle 66 ore che che mi sono state richieste per per terminare l'opera se vuoi chiamarla in un altro modo un pochino più per terminare il videogioco e lì forse ti direi sì dai ci sta ma l'idea che magari quando hai detto che esce il prossimo che sei più informato di me di che cosa? di Assassin's Creed ma non c'è una data d'uscita poi il prossimo dovrebbe essere questo appunto questa sorta di piattaforma diciamo esatto però ecco se domani Ubisoft uscisse e mi dicesse l'anno prossimo quindi tra un anno nonostante siano passati due anni da Valhalla per me sarebbe ancora troppo presto no no lo capisco sono stronzo magari lo comprerò lo stesso perché sono stronzo ripeto però già affaticato cioè vado lì e dico no 19.000 ore no basta ecco per dire non ti dico che sarà sicuramente così ma leggermente prevenuto parto con il prossimo Zelda perché essere il secondo capitolo quindi una sorta di continuo esatto di continuazione sia dal punto di vista del gioco quindi trama se vogliamo sia motore grafico e tutto quanto insomma devono trovare il modo di farmi innamorare nuovamente di un gioco tanto quanto mi sono innamorato di Breath of the Wild 1 e oltretutto ti aggiungo questa teoria dell'aspettativa economica segnatevela tu avrai delle aspettative dalle stelle perché quel gioco onestamente è un gioco perfetto cioè cioè i suoi difetti ma è perfetto perfetto cioè per assurdo e prendete tu hai quelle aspettative lì quindi tu hai delle aspettative alte per quanto tu adesso mi dica non è vero no 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 io ho delle aspettative strane mi spiego sarei quasi più contento di trovarmi di fronte ad una situazione ocarina barra maggioras merda quindi un Breath of the Wild 2 completamente rivoluzionato rispetto al primo nonostante vengano mantenute le meccaniche di gioco e con un secondo capitolo che non mi piacerà rispetto a farmi il copio e incolla del primo secondo me sarà una via di mezzo perché non possono secondo capitolo come fai a rivoluzionare completamente come fai ocarina è maggiore smesca eh devi secondo me cioè le carte in regola le hanno ripeto non sarebbe la prima volta eh ma Breath of the Wild 2 ma posto che non è stato annunciato il titolo adc magari lo chiamano diverso ma secondo me non sarà sicuramente Breath of the Wild 2 perché dovrebbe chiamarsi Breath of the Wild 2 no va bene va bene eh beh da Nintendo ci si può aspettare tutto però se fosse Ubisoft ti direi copia e colla sicuro ma senza neanche scommetterei certamente quello che stavo dicendo eh con Nintendo è vero che hai però è anche vero che secondo me per quanto tu dica di no perché hai delle aspettative strane a me l'uno ha creato delle aspettative alte e quindi come la questione delle aspettative economiche sì ma sono aspettative alte che sicuramente verranno disilluse fra ora io scusa aspetta che blocco anzi tra poco devo andare tra poco devo andare ostia sei 35 5 minuti e stacco esatto eh sicuramente non è vero perché a volte nella storia sono riusciti anche a superare quelle aspettative altissie è altamente probabile sono d'accordo con te è altamente probabile ma roba che ora quantificando erroneamente queste aspettative se la tua aspettativa è 100 e loro arrivano 98 che sulla scala di videogiochi questo 98 potrebbe essere tranquillamente classificato come un capolavoro ma siccome 98 rispetto al tuo 100 ti farà schifo è quella la verità beh ma secondo me è sbagliato partire da avere le aspettative a 100 ma perché ci troviamo di fronte ad un secondo capitolo che a quanto pare riprende tanto dal primo quindi non come fai a non averle così alte Marco cioè tu magari sei eletto ma sei capace no di però dopo un gioco che praticamente perfetto cioè tu dici arrivo un 2 cioè anche se ce l'ho anche se io sono il primo a dirti è impossibile che sarà come il primo cioè però ce l'ho comunque altissime cioè ce l'ho altissime che se fosse Ubisoft ti direi già che sarà una merda cioè talmente alte che pochi possono logico che non sono alte quanto il primo perché stiamo parlando di un secondo capitolo è anche difficile in termini di storia in termini di sorpresa effetto wow sarà una un'auto proteggermi dall'eventuale delusione rispetto a quelle che potrebbero essere le mie aspettative in merito però piacerebbe chiedere agli altri che hanno apprezzato il titolo fai un cavolo di sondaggio no è troppo tardi no nell'integra su telegram su telegram giusto per capire cioè anche le aspettative onesta cioè però cercare di essere più oggettivi nel soggettivo cioè nel senso che è logico che anch'io a pelle ti dico sarà difficile uguagliare però tu che cosa ti aspetta cioè tu dentro di te pur sapendo che non arriverai al primo ce le hai alte la risposta al mio caso è sì ti risponderò sì sì certo le ho alte semplicemente perché stiamo parlando di Zelda e di Nintendo ma non ma sono parto con il culo parato cioè sapendo che si tratta di un 2 non non mi aspetto che mi stupirà tanto quanto mi ha stupito il primo questo anch'io però comunque con aspettative sì certo perché non mi aspetto un brutto gioco ecco io invidio la tua posizione perché dalla tua imposizione potenzialmente puoi puoi solo trarre il massimo da un secondo capito nella mia sono sicuro che nel 99% dei casi vabbè stavo parlando di Nintendo quindi magari un po' più nel 90% 90% dei casi rimarrò a bocca asciutta e dirò no poi magari nel complesso sarà un ottimo gioco però io rimarrò lì e dirò che brutto che brutto rispetto al primo no no che brutto sicuramente no anche perché come sensazione mia non brutto il gioco secondo me nel momento in cui Nintendo dovesse aver ascoltato le relativamente poche critiche al primo ovvero la critica più più diffusa è stata quella dell'assenza di di dungeon veri e propri ma di questa sottospecie di guardiani boss barra mini dungeon nel momento in cui dovessero ascoltare creare ancora dei dungeon vecchio stile hanno vinto quindi tu dici che ritrodurano questa cosa qualcosa del genere si Robilli ti scrive ti scrivo in privato quindi preparati i peni in chat eh no ma mi scrive ti scrivo in privato in risposta al su chiama il cazzo robotico che ho scritto in risposta a quello che ha detto comunque nel 2 si vede la meccanica del braccio robotico ho capito che si vede la meccanica del braccio robotico ma non mi basta il braccio robotico per considerarlo uno step in avanti rispetto al primo cioè è una novità ma non è detto che mi vada a chiudiamo anche con questo secondo me posso chiarire il cazzo robotico no a parte quello cioè tu potrai darmi ragione su questo credo che tra i giocatori i giocatori si creano di quelle ora lasciate perdere la mia per Breath of the Wild dove ho messo la mia però si creano delle aspettative totalmente infondate rapidamente nel mondo di videogiochi come Far Cry che siccome c'era Esposito l'attore allora deve essere per farci un capolavoro sulla base di cosa secondo me quella è stata un'ottima mossa di Ubisoft a scritturare l'attore ma veramente è una stronzata a livelli colossali pieno così no deve essere per forza un capolavoro perché c'è Esposito Esposito vuoi figa Breaking Bad allora è bello Far Cry 6 hanno usato delle tecnologie facciali che è un conto sui trailer per il marketing ma andatevi a vedere il gioco vero non è che sia proprio tipo alla alla Kojima style non è che proprio l'attore possa fare la differenza in una roba del genere quindi vabbè però si creano delle aspettative totalmente anche perché poi tra l'altro stiamo parlando di un gioco non è un heavy rain in cui la narrazione la recitazione dei personaggi è parte fondamentale del gioco è vero vabbè uguale King of Reeves con Cyberpunk no no King of Reeves è sempre King of Reeves dai non toccatemi King of Reeves che è un santo attore va bene Francesco va bene dai vai a prendere le bimbe se riesco ad alzarmi fai come me attaccati sì sì stavo aspettando che attenzione perché poi Erika vede le impronte della mano sulla 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 roba e se se è vero quello che mi dici ti fa il cazzatore no non facciamola passare per il demonio Cristo no no però va bene fra grazie mille buona serata tac allora giro di ringraziamenti visto che oggi ho voluto tenermelo per la fine live ringrazio i nuovi iscritti ovvero The Slump God 900 che si è iscritto per la prima volta a lei il Trev Miki X porco diaz Frolics Batta 98 Margo Gallozzo i cari sì Shinji grazie mille ragazzi adesso so che state aspettando questo questo momento meraviglioso io vi ringrazio non credo domani mattina di essere in grado di fare la live vampiresca anche perché mi andrò a pompare nuovamente con degli anti con del bel voltare e quindi vedrei di stimolare il meno possibile la menishkanza io vi ringrazio per la piacevole compagnia anche di stasera vi auguro buona serata e noi molto probabilmente ci vediamo domani pomeriggio con il buon Ricky ho pensato a venerdì scorso ah sì con il buon Silvio ok grazie mille un bacio e ciao stanno anche cascando le bracche a venerdì Grazie a tutti